Noi oggi stiamo spendendo essenzialmente per accogliere le persone, mentre invece le persone vanno integrate e non è una spesa improduttiva, è un investimento come la scuola. Potrebbe al limite essere ancora più conveniente della scuola perché l'integrazione consente di adattare a un nuovo ambiente persone che prima stavano in un altro ma con una durata molto inferiore a un percorso scolastico. Ecco questa è la partita che oggi abbiamo di fronte, di cui siamo però totalmente inconsapevoli a livello politico ma anche a livello culturale e giornalistico e quindi questa è la sfida che abbiamo davanti e che dobbiamo affrontare.